La crescita del lavoro e la sua qualità restano necessariamente centrali per ogni strategia di governo. Il lavoro è la priorità. Il lavoro è la prima sfida per chi governa, questo dice su Twitter il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. A Prato c'è stato il primo maggio di CGL e Cisle Will con al centro quest'anno la sicurezza dei lavoratori. Allora prima l'inviato Gian Piero Scarpati e poi con felicità Pistilli le storie di due donne tra lavoro e maternità. Vediamo.